L'eccezione qua di Monza, la palla buona, buttata dall'altra parte e c'è il primo punto L'eccezione è buona per Trento, va a Rivero ad attaccare, palla respinta direttamente nel campo trentino dove però non c'era nessuna giocatrice in maglia giallo-blu Qui è un'occasione per ricostruire, ma Zacchei va a palleggiare col bagger per Alessia Gennari Questa volta passa e c'è l'Ace di Zacchei Ancora nel campo di Monza, allora Negretti accomoda per Orro, Zacchei Scoppia il pallone 16-11 la ricezione di Monza, tocca di là Zacchei, tottanto che basta Ace ancora una volta per Zacchei In campo per Furlan, grande palla di Zacchei Il pallone qua ha giocato di nuovo verso Zacchei Il pallone qua ha giocato di nuovo verso Zacchei Il pallone qua ha giocato di nuovo verso Zacchei Il pallone qua ha giocato di nuovo verso Zacchei